Passeggiari e merci sarà sempre più verde, lo promette Guido Grimaldi, presidente dell'Alis, l'associazione che rappresenta 1.400 aziende del settore trasporto e logistica. Abbiamo sottratto dalle autostrade, grazie all'impiego, all'impegno di tutti i nostri associati, circa 1.500.000 camion all'anno, che vuol dire 1.200.000 tonnellate in meno in Italia in termini di emissioni CO2. Il target è importante, ma possiamo raddoppiare questi numeri nei prossimi tre anni. Meno camion sulle strade, la mobilità passa sempre più su navi e ferrovie, e sullo sfondo del galoppatoio di Piazza di Siena a Roma le imprese del settore si confrontano, ingenti gli investimenti messi in campo per ridurre l'inquinamento, in arrivo anche delle mega batterie al litio da impiantare sulle navi per azzerare le emissioni nei porti. Obiettivo richiamare l'attenzione della politica sull'importanza dello sviluppo sostenibile. Chiediamo sicuramente attenzione e ascolto, le imprese italiane sono capaci di essere all'avanguardia sulla mobilità green e l'ecosostenibilità. La mobilità non green, sottolinea l'amministratore delegato di Invitalia Arcuri, costa il 4% del PIL mondiale. Sostenibilità e green vuol dire anche redditività, vuol dire che le nostre aziende possono essere più competitive, se socialmente, economicamente e ambientalmente più sostenibili.